Io ricordo di me quando ero ragazzo, ero indeciso tra fisica, matematica e medicina. Allora, la regola che mi sono dato è conoscere i posti in cui avrei studiato. Quindi mi sono fatto un bel giro, io avevo deciso di studiare a Bari, nel corso di laurea in medicina sono andato lì a vedere un po' gli ambienti, non mi sono piaciuti, idem per matematica, ho avvertito questa sensazione di freddezza, eccetera. Quando sono entrato nel building di fisica sono rimasto affascinato, sono andato a schiare qualche lezione, qualche professore che faceva lezione, ho visto qualche studente disperato sui banchi, nei corridoi, in biblioteca che studiava. Questo mi ha affascinato, quindi quello che consiglio è di andare a visitare i posti che voi frequenterete, perché non so perché avvertirete qualcosa, qualcosa che vi attirerà nei confronti di un posto piuttosto che di un altro. Grazie.